Strada di Santa Lucia continua la telenovela. Nonostante la segnalazione della nostra emittente in data 10-10-2020 ad oggi, la novità è che siamo riusciti a registrare, riguarda la messa in opera, di una rete in plastica di colore arancio con la scritta Lavori in corso. Si precisa che nessuna tabellonistica di cantiere è presente sul luogo di lavoro, ad oggi nessun effettivo inizio dei lavori, visto l'imminente arrivo della stagione invernale. Questa emittente farà il punto della situazione di questa arteria. Non è possibile che da ben quattro lunghi anni persiste questo pericolo e disagi per tutta la popolazione del Chiaravallese. Il nostro vuole essere uno stimolo per le autorità preposte. In questo caso l'amministrazione provinciale di Catanzaro si attivi, affinché si riesca a dare avvio ai lavori e alla conclusione degli stessi. La nostra emittente è sempre disponibile a ricevere qualsiasi fonte di chiarimenti per quanto riguarda questa problematica. Oppure bisogna attendere i risultati delle vicine elezioni dei consiglieri provinciali?